Grazie Presidente. 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 Auditi nel corso di un lunghissimo percorso di audizioni che ha preceduto l'entrata in vigore della riforma. Lo posso dire con consapevolezza, Presidente, perché non ne ho persa una di quelle audizioni. Dunque, per eliminare i presupposti di questo panico ci sono due strumenti. Il primo è eliminare o ridurre o semplificare quantomeno la burocrazia che spaventa in assoluto ma spaventa nel dettaglio chi nel proprio settore non l'aveva mai incontrata. Il secondo è intervenire con delle risorse per ridurre l'impatto economico del costo del lavoro a cui le associazioni sportive saranno sottoposte, che è l'oggetto del mio ordine del giorno. Noi vi avevamo chiesto di prevederlo al primo provvedimento utile. Io ho ascoltato naturalmente la premessa al parere. Chiaramente per noi il primo provvedimento utile si chiama legge di bilancio e ci stupisce che in quella legge di bilancio non ci sia traccia anche di questo impegno che, ripeto, è un patto che quest'Aula ha stretto e lo ricordo ancora una volta il 20 settembre scorso introducendo nella nostra Costituzione il diritto allo sport e quindi evidentemente un patto che richiede politiche pubbliche che intendano lo sport non come voce di spesa ma come investimento. Me lo sentirete ripetere a sfinimento che lo sport è un investimento sulla cultura, sull'inclusione, sul rispetto delle regole, sul benessere psicofisico. Me lo sentirete ripetere a sfinimento che un euro investito in sport ne fa risparmiare almeno 4 al sistema sanitario nazionale. Sono qui apposta per ripeterlo tutte le volte che è possibile. Ecco perché, ripeto, accolgo la proposta di riformulazione ma chiedo che venga votato in modo da suggellare un impegno un pochino più significativo.